Bene, e facciamo così sempre, io faccio 1, 2, 1, 2, 3, 4, ancora una volta, 1, 2, 3, adesso vai indietro, 1, 2, 3, 4, ancora una volta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allarga bene, gambe, metti in lavoro, 1, 2, 3, 4, e di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8,ru, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8,8,8. Vedi, posso andare anche tu. Tre. 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 Stai facendo questo colpo? Sì. O fai... Così. Fai buono. Tre. Uno. Tre. 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 si si quando io faccio anche tu per me dar o piante o piante o piante o piante o piante o piante ora anche un po' prova da tocare un po' qui ok 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 e poi anche come adesso tutto sta lavorando di finestra e lì quando si calda se dicono ora io vedi che direttamente il tuo naso però piante non 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 chi però Però non tanto, tutto Adesso torno con due gioco Torno? Si, con due gioco Leット Dio Grazie a tutti. Vedi, stavo in ritardato. 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 Justo, justo. guarda guarda No, no, no Relax Ora facciamo in altra direzione e poi con un piccolo passo fuori. Ora facciamo in altra direzione e poi con un piccolo passo. Ora facciamo in altra direzione e poi con un piccolo passo. Ora facciamo in altra direzione e poi con un piccolo passo. Senti? Ora facciamo in altra direzione e poi con un piccolo passo. Senti? Senti? No vai troppo. Un piccolo. Senti? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no guarda, io vado da te, su un incontro più più stretto sì, guarda dai hop te hop hop mangiare tuttanto hop dai 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 in questa maniera, vedeci hop hop guarda, guarda guarda, guarda dai hop 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 ecco qui vale 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 Adesso, più erarmente si incontrano questi colpi. Di solito solo questa gamba sta da mediano, sta succedendo. Di solito là pochi arrivano. Io invece devo prendere la tua gamba. Non alti genui, che niente sta in guardia, io sto qua e tu devi... Provo a prendere mio, con low-key. Veloce, io. Devi tocare. Bene, basta prendere. Io. Hai capito? Non avicinate tanto. Io. Io. Hoop. Hai capito? Se lo va? Hai. Hai. Dove vedrai. Ci sì. Dove vedrai. Ho. è un po' più difficile sono troppo vicine, troppo grande strette pure guarda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.